Quell'uomo ha la licenza di intingere. Perché mentire dicendo che non lo fa? Non è quella la bugia, ma è il fatto che gli importa cosa prova la moglie. Se scopassero in giro tutti e due sarebbe una cosa, ma se lei lo fa, e lui no. Lui può stare in pace solo se la tradisce in un altro modo, il che nella sua testa pareggia i conti. L'unicorno non è un unicorno, è un asino con uno sturo lavandini in faccia. Certo, anche chi non tradisce lo fa per ragioni segrete. No, no, non fai il cinico. Pensa che il marito faccia qualcosa per pareggiare il conto, quindi pensa che ci sia un conto. Cioè, a parte i cini traditori, House crede nella monogamia. È anche romantico. Quello che penso è che gli uomini siano geneticamente gelosi e vi garantisco che per lui il conto c'è. Novità sui partner di lei? Sappiamo che è stata con due uomini oltre a Tom negli ultimi sei mesi e nessuno di loro è uscito dal paese. Quindi torniamo al marito. Hai appena detto che pensi... Qualcosa le sta nascondendo? Quale migliore copertura di un viaggio di lavoro in Nebraska? Chi lo metterebbe in dubbio?